che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo italia fuori dall'europeo 2 a 0 con gente che sa fare il cioccolato e basta con la svizzera che invece stasera sembrava il Brasile di Messico 70 non c'è stata gara ci hanno massacrato un un devasto fosse finita 12 a 0 niente da dire un'Italia vergognosa e adesso vi prego non voglio sentire i soliti incapaci incompetenti calcistici che diranno l'Italia non è scesa in campo non c'è stata grinta non c'è stata voglia hanno sbagliato l'approccio non hanno la cazzimma non si sono impegnati chi vi dice queste frasi non ci capisce un cazzo perché il fattore mentale ok è secondario tu puoi impegnarti quanto vuoi ma se sei scarso sei scarso dice ma monarca quelli della svizzera sono più forti di te sì sì certo che sì uno con mendoie l'Italia non ce l'è che piglia la palla fa tutti quei metri palla al piede salda gli avversari come birilli non c'è in Italia uno come embolo c'entra avanti l'Italia non ce l'è quello che scatta ti chiama la profondità sempre continuamente si fa dare palla la protegge non la perde mai non c'è nell'Italia così in più anche se tu giochi con uno più scarso e non è il caso perché la svizzera non è più scarsa come valori assoluti dell'Italia se poi manca la tecnica cioè non hai eccellenze tecniche ma è chiaro che vince chi corre di più e quelli correvano il triplo adesso fine partita Spalletti l'ha anche detto la condizione fisica ma la condizione fisica è secondaria alla tecnica cioè poi è impossibile che tutti e 22 sono in depredimento fisico è impossibile detto che comunque non è che ti serve correre a 3000 all'ora contro la svizzera ti vengono a pressare alti senza darti respiro esci col palleggio con la tecnica ovviamente devi avere cacciatori che lo sanno fare andiamoli a a elencare questi cacciatori allora lui ha continuato a mettere su tutti i Spalletti ha emesso Di Lorenzo è chiaro che è un errore mettere Di Lorenzo che è un giocatore da serie C e io ho fatto il video mesi fa quando è stato accostato all'Inter ho fatto il video con lui in copertino e in della scalia scritto no scherziamo perché lo so che è un giocatore di serie C esattamente come Cristante quelle quelle gente che non può neanche giocare in serie A sono scarsi ma vi assicuro che anche avesse giocato terzino destro da Armiane a sinistra un altro o terzino destro non sarebbe cambiato perché non c'è gente forte in questa nazionale quando voi mi dite ah ma il blocco Inter ha fatto scrivere Bastoni che gli vuoi dire a Bastoni che cosa doveva fare Bastoni? Bastoni è fortissimo è un'impostazione a marcare l'onesto fenomeno io l'ho sempre detto deve migliorare molto ma l'impostazione tu sei forte quando c'hai gli altri con cui poterla scambiare la palla e quando i due lanci c'è qualcuno che scatta che sono a chi li fastira quante volte vi avete visto fare i famosi cambi di campo di Bastoni quasi mai perché dalla destra non c'era Dunfris che scatta non c'è Lautaro non c'è Turam c'è Di Lorenzo c'è Scamacca o Chiesa anche Chiesa uno dei peggiori i difensori ragazzi cioè per forse credetemi a parte di Lorenzo sono stati migliori perché quando tu vieni attaccato sempre 90 minuti non tieni mai la palla e dai 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 anche se in difesa c'hai Maldini Nesta Cannavale il bollo prendi non puoi giocare una partita dove ti fai massacrare tutto il tempo e l'Italia in tutte le partite è stata così tra nella prima con l'Albania ma nei primi venti minuti anche l'Albania ti ha dominato anzi nel primo tempo in realtà poi siamo usciti un po' per il resto ci hanno massacrato tutte quindi vuol dire che non sei forte tu perché non è che la Croazia ragazzi è alla fine la Spagna sì ma non ha finalizzatore la Svizzera cioè vuol dire che non siamo forti noi perché in mezzo al campo non c'è gente che sa palleggiare che sa far uscire dal pressing quando vedete il blocco l'Inter bastoni Barella non è un palleggiatore Barella è un incursore quindi quando la squadra attacca lui è bravo a inserirsi è bravo a recuperare la palla quando scappiamo all'indietro ma non è Cialanopolo non è Militarian non è un costruttore di gioco quello chi lo doveva fare lo doveva fare Giorginio l'ha fatto no perché perché è un giocatore a fine carriera chiesto sostituto la promessa il nuovo play fagioli quando mi dicono fagioli può giocare titolare l'avete visto fagioli un giocatore un giocatorino senza esperienza vent'anni 22 anni quello che o sei un fenomeno o non c'hai le palle per tenere fagioli si limitava a passare la palla dietro oggi o a fare passaggi nei tre metri quando ha provato due aperture le ha sbagliate tutte e due primo perché non è così forte come mi fanno credere ma secondo perché non ha questa grande esperienza cristante cioè già tu spalletti sei odiato a tutta Italia perché fai mettere fai giocare di Lorenzo che è un giocatore di serie C metti il carico facendo giocare cristante che è un altro giocatore da serie C che cosa ha fatto oggi cristante quando vi dicono da fisicità ma è semplicemente alto ma non è uno che nei contrasti ci va con foca che sa fare il pressing alto perché è lentissimo coi piedi sbaglia i passaggi a due metri ripeto avesse giocato Giorginio con frattesi non sarebbe cambiato granché perché tu devi segnare per vincere nel calcio e io non sento accanti sono chiesa che è uno che tira la palla in terzanello e non salta l'uomo neanche se l'uomo si sposta si sa buttare solo la palla in avanti Zaccagni che gioca nella Lazio e Sciaravi che gioca nella Roma giocatorini i centramanti ragazzi io neanche cioè scamacca ma avete visto che cosa è mangiato oggi un'occasione abbiamo avuto forse la pure fuori gioco non lo so sembrava tutto buono Zaccagni la dà di testa lui ho metto dalla porta tira palo lì un attaccante deve segnare un attaccante forte scamacca che non è nessuno lì sbaglia reteghi forse reteghi avrebbe fatto quel gol ma ripeto non c'è il non c'è il baggio il totti il veri sembrano discorsi ripetitivi ma sono gli unici da fare perché io dico spalletti ha sbagliato tutto ha cambiato diverse volte formazione ha scelto giocatori sbagliati di lorenzo su tutti ma anche quando ha fatto giocare cristante cambiaso i cambi quello che volete ma non ne è col c'è venisse guardiola ad allenare sta nazionale non farebbe tanto di più perché giocatori la maggior parte sono scarsi qua giocatori di livello internazionale che non possono bastare a farti andare avanti perché sono troppo pochi c'hai il portiere donna rumma bastoni barella finito 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 non hai più giocatori di livello internazionale basta con te non puoi passare basta quindi meglio così in realtà meglio uscire con la svizzera che non uscire massacrati da germania o da altre squadre che poi ti prendono anche in giro quindi poco cambia non c'hai due anni fa ragazzi l'europeo scorso è stato un mirato è stato dovuto gli altri come lo scritto del napoli si sono allenati gli astri e si sono trovati benissimo i calciatori c'era un gioco spettacolare e comunque avevi gente forte la gente più forte perché in difesa c'era chiellini che un marcatore vero c'avevi verratti che un play con i controcazzi non fagioli non giorgigno erano già molto più forti e ti dico e ti dico che anche in signo o dire a giro ma quanto meno avevi uno con il tazzo stava l'uomo un cross niente qui tu hai fatto entrare le techi giocare col doppio centravanti per gli ultimi venti minuti non è arrivato un cross dire qualcosa se non è arrivato un cross quindi di che cazzo stiamo parlando detto questo fatemi sapere come la pensate quindi iscrivetevi al canale che cade prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio i live live che dovremmo fare stasera ci guardiamo la Germania vediamo un po come cosa farà beh sicuramente vincerà la Germania con la Danimarca ma nel calcio niente è scritto quindi il nostro solito saluto in latino vide te mox e Italia a casa